Vasilia deve confrontarsi subito in commissione trasporti e quanto chiedono i consiglieri regionali di centrodestra dopo l'annunciata partecipazione del presidente di aeroporti di Puglia ad un vertice convocato a Lecce del sindaco Salvivini proprio sull'aeroporto di Brindisi. È il luogo istituzionale debutato a dare risposte ai consiglieri regionali e ai cittadini pugliesi, per questo abbiamo chiesto al presidente della quinta commissione Paolo Campo di riconvocarlo subito in audizione per venire a rispondere dei deficit dell'aeroporto del Salento. E quanto affermano in una nota i consiglieri regionali salentini di centrodestra Paolo Pagliaro, Luigi Caroli, Giacomo Conserva, Gianni De Blasi, Massimiliano Di Cui, Antonio Gabellone, Pari De Mazzotta, Renato Perrini e Antonio Scalera. La precedente convocazione, fissata per il 16 ottobre scorso su richiesta del consigliere Pagliaro, inoltrata ad aprile 2023 sollecitata più volte, fu rinviata per un'improvvisa indisponibilità del presidente Basile in considerazione dei precedenti improcrastinabili impegni. Ora, con la nuova richiesta di audizione, scrivono gli esponenti politici, chiediamo che siano affrontati tutti i nodi strutturali, organizzativi e gestionali che riguardano lo scalo brindesino, partendo dall'aerostazione, priva di spazi per la sosta dei passeggeri e con servizi inadeguati, banchi di accettazione insufficienti, tragitto disaggevole dal gate fino alle aeromobili, senza percorsi al coperto che riparino dai disagi delle intemperie. C'è poi il grave problema della carenza di parcheggi che Basile si era impegnato a risolvere realizzando un secondo piano e raddoppiando gli spazi autodisponibili. Promessa disattesa, per cui restano insoluti problemi di traffico e viabilità, con sosta selvaggia lungo le vie di accesso all'aerostazione. Altro grave deficit è la mancanza di collegamenti con la rete ferroviaria ed un servizio bus pubblico inadeguato alle esigenze dell'utenza, che obbliga a ricorrere a costosi trasporti privati. Ma il disservizio numero uno per i consiglieri di centrodestra è la carenza di voli, in media un terzo rispetto all'aeroporto di Bari, con tariffe più alte e in orari disaggevoli, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con le principali città italiane, in primis Roma e Milano. Problema aggravato? La Italia ha annunciati a più riprese dalla compagnia Ita Airways. È evidente, secondo i consiglieri di centrodestra, un difetto di programmazione che penalizza dall'aeroporto del Salento, rendendolo inappetibile e tagliandolo fuori dalla erotta ed incoming dall'estero. Si registrano frequenti cancellazioni dei voli senza che ai passeggeri venga assicurata assistenza adeguata. Anche sull'ampliamento della pista, insufficiente allo stanziamento degli aeromobili, il presidente Vasile aveva assunto impegni precisi in occasione del sopralluogo del dicembre 2022, ma dopo oltre un anno non ci risulta sia stato fatto nulla per acquisire gli spazi necessari, né sappiamo quanto sia stato realizzato dagli investimenti annunciati. Riqualificazione della pista secondaria e ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili per 9 milioni di euro, con inizio lavori previsto ad aprile 2023. Riconfigurazione dell'impianto smistamento bagagli per 10 milioni di euro, con inizio lavori previsto a dicembre scorso. Su tutti questi punti, concludono gli esponenti dell'opposizione, chiederemo riscontri precisi al presidente dei aeroporti di Puglia, che siamo certi non vorrà mancare al confronto in Commissione Trasporti del Consiglio regionale.